Il nostro modello è quello di cercare di fare qualcosa partendo da qua, quindi i nostri clienti sono quasi tutti fuori dalla Sardegna, facciamo oltre il 90% del fatturato fuori dalla nostra isola, però la forza lavoro la teniamo prevalentemente qua. Siamo un gruppo giovane, l'età media è sui 30 anni, forse anche meno, siamo in continua ricerca di nuovi talenti, abbiamo delle collaborazioni con l'Università di Cagliari, di Sassari, però anche di Torino e di Pisa, dove ultimamente stiamo prendendo dei giovani ingegneri che dopo aver fatto un'esperienza fuori hanno deciso di mettersi un po' in campo per cercare di fare qualcosa qua, quindi si ritrovano a lavorare per una realtà sassarese e poi magari i clienti sono in Germania o sono in Giappone.